Come si vede nel futuro del suo partito? 18 mesi fa noi avevamo detto con molta forza che il centrodestra non poteva ridursi ad un ricordo del passato. Quando si antepone l'interesse del proprio partito all'interesse del Paese non si va da nessuna parte e che di questo passo ovviamente gli elettori del centrodestra ci avrebbero abbandonato. Molti hanno fatto la scelta di fondare Forza Italia, compreso Raffaele Fitto e gli altri. Dopo 18 mesi mi sembra che la realtà ci dia ragione. Il nostro compito nel fare le cose concrete come abbiamo dimostrato nella riforma della scuola è quello di costruire un'alternativa seria alla sinistra e a Renzi. Se su questa strada ci sarà Fitto ma ci saranno i Tosi, ci saranno le tante persone che non vogliono rassegnarsi a consegnare in mano il Paese e la sinistra, credo che si potrà fare un percorso insieme.